Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, in via Aristosseno. Beh, è una strada abbastanza gettonata, per così dire, alla luce dei tanti disagi e dei tanti disservizi che presenta. Ci siamo occupati qualche giorno fa delle condizioni pietose del manto stradale, ora ci occupiamo dei cassonetti. I cassonetti dell'Amiu che per carità vengono svuotati, ma non si può davvero stare in questa zona perché dai cassonetti stessi proviene, promana un cattivo odore davvero incredibile. Sembra odore ovviamente purtroppo di orina, è una situazione davvero penosa, per cui sarò molto breve in questo sportello del cittadino perché mi rendo conto che bisogna avere uno stomaco, dovremmo avere uno stomaco sia io sia il mio cameraman davvero forte per tollerare certi odori nauseabondi, certi odori, cattivi odori veramente che non si possono rappresentare ovviamente come immagini. Se esistesse una telecamera in grado di percepire, di riprodurre gli odori, penso che più di qualcuno nauseato cambierebbe canale. Il problema qual è? Non basta, signori dell'Amiu, svuotare i cassonetti, occorre lavarli, occorre disinfettarli. Non è possibile una situazione del genere. Stiamo nel centro di Taranto, sembra di stare in una zona del terzo mondo con un odore, ripeto, cattivi odori pazzeschi che provocano l'urto del vomito. C'è un altro aspetto da sottolineare, da alcuni giorni gli operatori dell'Amiu non passano da questa zona per rimuovere i rifiuti. Immaginate un po' le condizioni in cui si trovano i poveri tassisti che aspettano qui, ovviamente qui è il loro quartier general per così dire, con le loro autovetture, tra cattivi odori nauseabondi e sporcizia di ogni genere, plastica, cartacce e quant'altro. Sindaco, lei cambia e ricambia i vertici dell'Amiu, ma qui la situazione è sempre peggio. L'Amiu non funziona. L'Amiu è un'azienda che fa acqua da tutte le parti. E poi non chiediamo niente a Taranto, non ci sono le condizioni ambientali sicure, non c'è occupazione, ma viva Dio dateci un minimo di vivibilità, fate sì che possiamo camminare e non dobbiamo veramente vomitare per il cattivo odore proveniente dai cassonetti.